Io guardo con estremo sospetto, per esempio, tutti quegli occidentali che assumono pratiche orientali per migliorare la loro condizione psicofisica. Non so, penso il buddismo, lo yoga, tutte quelle cose che assomigliano a questi scenari che ho appena nominati. Perché come fai tu con il tuo cervello da occidentale rapinare pratiche che non capisci allo scopo di star meglio tu senza entrare mai nella dimensione dell'Oriente, dove in Oriente si pensa in modo diverso che in Occidente? L'Orientale non pensa in modo occidentale, ma noi che siamo occidentali abbiamo la volontà di potenza, una modalità di carpire tutto, di prendere da ogni parte. Andiamo a prendere anche le cose che non riusciamo a prendere, perché il modo di pensare orientale è assolutamente diverso dal nostro. E andiamo a prendere praticucce che determinano solamente un sorriso da parte degli orientali quando ci vedono a recitare le loro formule filosofico, culturali e religiose, come se fossero degli statuti degli indovinelli. Ma noi abbiamo questa mentalità da rapinatori, noi occidentali. E allora come si fa ad abbandonare il proprio pregiudizio? Non si può. Dobbiamo sapere che ci sono delle cose che non si possono fare.